Una delle prime conseguenze del nuovo paradigma ibrido dello smart learning è il fatto che il processo didattico non può più limitarsi semplicemente a ciò che avviene in aula, ma ha l'opportunità e la spinta e insomma assolutamente deve comprendere l'intero processo che porta ai risultati di apprendimento. In questo scenario non ha più senso parlare di lezioni, di esercitazioni come qualcosa di cui noi come docenti dobbiamo occuparci e invece di studio, esercizi e ripasso come questioni che riguardano esclusivamente lo studente. E proprio per questo motivo abbiamo chiamato il metodo smart learning design 25 perché facciamo riferimento alle 25 ore che nel nostro ordinamento definiscono l'impegno complessivo che uno studente medio dovrebbe mettere per ottenere un credito formativo universitario. Sappiamo che a secondo degli indirizzi delle tradizioni ciascun CFU richiede l'offerta di attività didattica da parte del docente pari a una percentuale piuttosto variabile che è compresa tra il 25 e il 50 per cento del totale dell'impegno richiesto allo studente. Stiamo parlando di un numero variabile nelle diverse scuole tra 6 e 12 ore in aula su un totale di 25 ore di impegno per ogni CFU. Al Politecnico di Milano ad esempio abbiamo 10 ore di lezioni o esercitazioni in aula per ogni CFU. Lo smart learning design cosa ci permette di fare? Ci aiuta proprio andare a destrutturare la complessità di tutto il processo d'apprendimento, cioè quello costituito dalle 25 ore di impegno studente per ogni CFU, nei suoi elementi costitutivi, quelli che andiamo a chiamare eventi di apprendimento, per poi andare a ricollegarli in un modo più sistemico come è effettivamente il processo d'apprendimento in un contesto che è ibrido da tutti i punti di vista, sincrono e asincrono, individuale e collaborativo, fisico e digitale, autonomo e guidato, ordinario e valutato. Vedete che sono veramente tante dimensioni. Per facilitare il governo dell'integrazione tra i vari eventi di apprendimento lo smart learning design propone l'utilizzo di un frame visuale che prende ispirazione da quello che ha sviluppato nel 2014 Clive Young con Natasha Perovic per il metodo ABC de Luciel. Ne proponiamo però un'evoluzione proprio pensata per la dimensione ibrida, che permette di distribuire gli eventi di apprendimento in aula o online, scegliendo la modalità sincrona o asincrona lungo tutte le settimane che compongono il semestre didattico oppure lasciandolo alla gestione autonoma dello studente. Tutto questo avendo sempre una visione sinottica dell'intero progetto, che permette di evidenziare e valutare le distribuzioni e le relazioni. L'incrocio tra la variabile del tempo e quella dello spazio in cui si verifica l'evento di apprendimento lo specifica ulteriormente collocandolo nei differenti scenari didattici. A partire da quello presenziale, in cui è proprio richiesta la presenza fisica in aula, in laboratorio o anche in un luogo fisico esterno, come può essere un museo o una fabbrica, per ampliarsi poi verso l'aula estesa, in cui gli eventi di apprendimento si svolgono in un'aula fisica, connessa però anche con gruppi di studenti che possono stare in remoto. Per poi passare alla dimensione online sincrona, come nei seminari online e webinar a cui tutti partecipano nello stesso momento, e alla dimensione online asincrona, come nella fruizione in questo MOOC in cui ognuno di voi ha scelto quando guardare video e fruire dei materiali, fino alla modalità autonoma in cui si collocano gli eventi di apprendimento sui quali il docente vuole lasciare una totale libertà organizzativa allo studente, se in termini di tempo che di luogo. Lo Smart Learning Design 25, dopo aver sollecitato i docenti a identificare bene quali sono gli eventi di apprendimento che ritengono necessari al raggiungimento dei risultati di apprendimento, propone di provare a stimare il loro peso reciproco, in termini di tempo ipotizzabile per il loro svolgimento. Definendo così per ciascun evento, il numero di ore e la loro collocazione temporale nello svolgersi dell'esperienza d'apprendimento dalla prima all'ultima settimana di corso o anche dopo la fine del corso. La definizione del tempo diventa l'elemento chiave di ricostituzione del sistema perché ci permette di legare tra loro i vari eventi di apprendimento con una logica di proporzionalità inversa molto semplice. Visto che il tempo totale definito per l'esperienza d'apprendimento non può essere superato, abbiamo 25 ore per ogni CFU. Se un evento cresce in termini di tempo occupato, un altro deve necessariamente diminuire. Per esempio, se aumento le ore di lezione frontale a bassa interattività, devo necessariamente ridurre altri eventi come la discussione o l'applicazione pratica e viceversa. ciascun evento di apprendimento può inoltre collocarsi nell'esperienza dello studente come momento individuale in cui l'eventuale dimensione di relazione è solo col docente oppure collaborativo in cui l'evento si svolge in forte interazione con i pari offrendo così contesto di motivazione più favorevole, maggiore opportunità di sviluppo delle cosiddette soft skill, competenze comunicative, collaborative, organizzative del pensiero critico e creativo. Infine abbiamo il tema della valutazione degli apprendimenti, cioè quei momenti in cui cerchiamo di osservare da vicino la qualità, l'ampiezza e la profondità degli apprendimenti raggiunti. Ecco, questo momento non viene proposto come altro, come estraneo rispetto al processo di apprendimento, ma è perfettamente integrato. Cioè il metodo SLD25 suggerisce di individuare quali eventi di apprendimento possono essere oggetto di valutazione, se in termini formativi, cioè la valutazione informale che dà un feedback allo studente sul suo progresso, che sommativi, cioè quella valutazione formale che valuta il grado di raggiungimento dei risultati di apprendimento e contribuisce alla valutazione ufficiale. In questo modo il docente viene proprio stimolato, spinto a integrare nel processo di valutazione tutti gli eventi di apprendimento, non solo i classici momenti di produzione e applicazione come avviene tradizionalmente negli esami, in cui viene richiesto di svolgere un esercizio, di presentare un progetto o di rispondere a delle domande. Grazie